La macchina dello Stato ha fatto fronte a tutte le difficoltà, abbiamo garantito il diritto di voto a tutti gli italiani ed è stato un grande servizio che abbiamo fatto al Paese dimostrando come uno Stato democratico riesce a far fronte a tutte le situazioni, anche una situazione difficile come quella attuale perché è la prima volta che si vota in presenza di una pandemia.